È il giorno decisivo. Nel pomeriggio al Consiglio Comunale si torna a discutere della questione debiti fuori bilancio a Benevento. Una partita che si gioca sul filo risicato dei numeri, non solo quelli finanziari, di Palazzo Mosti. Dopo il doppio flop in aula, infatti, la fascia tricolore del capologo Sannita ha detto a chiare lettere che ora non sono più ammessi passi falsi. Che la questione fosse importante l'ha dimostrato anche la riunione convocata su iniziativa del sottosegretario Umberto del Basso De Caro con i consiglieri del Partito Democratico. Rispetto alle volte scorse, filtra un cauto ottimismo, ma negli ambienti della maggioranza si va con i piedi di piombo, visti anche i precedenti poco incoraggianti. Anche perché, sia alla riunione che in Consiglio, ci saranno delle assenze annunciate. Magari, a garantire il numero legale, potrebbero essere le new entry dei Pierro e Trusio. Mancano poche ore, poi si conoscerà il destino della compagine di Palazzo Mosti. Come si ricorderà, si tratta di una vicenda che per mesi ha catalizzato l'attenzione della classe dirigente cittadina. Uno snodo cruciale in questo scorcio di consigliatura del secondo mandato targato Fausto Pepe, che, comunque la si guardi, lascerà un segno anche sull'amministrazione comunale che si insedierà il prossimo anno.